Siamo con Francesco Foggia, ideatore, promotore anche di questa edizione della Festa del Pane e della Pasta 2022. Francesco, facciamo insieme un bilancio di queste tre serate insieme, caratterizzate dall'allegria, dall'arte, dal cibo, ma soprattutto da tanto spettacolo. Serate che ci hanno dato grande soddisfazione non solo personale, ma soprattutto anche di squadra. Il bilancio è abbastanza positivo, è sotto gli occhi di tutti, il grande successo. Abbiamo catalizzato migliaia di gente a Borgata Costiera. Era da anni che Borgata Costiera comunque non arrivassero tutti questi visitatori, forestieri, turisti e anche mazzaresi. Dobbiamo dire che Borgata Costiera in questi giorni è stato al centro del progetto dell'UNAC perché da anni abbiamo arrivato delle importanti manifestazioni. Io sono il ideatore della Festa del Pane e della Pasta e ne vado fiero ed orgoglioso perché grazie a questo evento, grazie a tutte queste opere che si stanno realizzando, stiamo promuovendo un territorio che in passato viveva nel dimenticatoio. Abbiamo recuperato importanti scorci come la via dei lavatoi, piazza dei lavatoi, la via Cervigna. Tutto ciò nell'interesse comunque di ridare luce alla periferia. Borgata Costiera per noi è un progetto di vitale importanza perché non ci fermeremo qui. Questo grande risultato sicuramente ci deve un orgogliere ma ci deve anche responsabilizzare perché significa che adesso la città si aspetta tanto e noi di conseguenza dobbiamo sempre e comunque dimostrare molta professionalità, attenzione e abnegazione. Io da sempre ho cercato di curare i particolari. Ci tengo a precisare che mi piace superarmi perché ognuno si pone dei limiti. Io i miei limiti ce li ho ma ancora non li conosco perché vedo che di volta in volta per ogni edizione ci si migliora. Questo significa che ancora c'è tanto da fare. Noi ringraziamo tutte le attività commerciali che ci hanno sostenuto. Noi ringraziamo la Regione Sicilia in nome dell'assessore Mimmo Turano perché ha creduto in questo progetto perché senza il suo appoggio morale ma soprattutto economico non saremo qui oggi a parlare della quantità di edizione della festa del pane e della pasta perché vi ricordo che questo evento è che da quattro anni che comunque non veniva svolto a Borgata Costiera. Stiamo lavorando per un altro progetto importante. Vogliamo portare la festa del pane e della pasta a dicembre per Crisman Edition. Sarebbe una novità. Vogliamo portare la periferia al centro. Ad oggi abbiamo spostato il centro alla periferia. Io delle periferie ne vado comunque fiero perché sono un uomo che sono cresciuto in periferia e mi sono formato proprio lì. Dalle periferie ho sempre visto il centro in modo diverso. Ho visto sempre migliore anche perché so il disagio sociale che c'è. Però Borgata Costiera oggi ha dimostrato di essere una grande comunità di unione soprattutto. Perché la festa del pane e della pasta nasce nell'ottica dell'inclusione sociale ma quest'anno soprattutto è un'inclusione totale. Totale perché abbiamo visto tante persone presenti. Hanno lavorato con il pane devozionale come la del Borgata Costiera, la chiesa di San Giuseppe, la chiesa di San Domenico di Gesù. Totale perché sono state aziende da ogni parte della Sicilia che hanno sponsorizzato questo evento e anche dall'Emilia Romagna. Totale perché abbiamo convolto diversi artisti di tutto il territorio siciliano. Abbiamo avuto 25 artisti, diciamo coadiuvati magistralmente dal grande Gerry Bianco che hanno donato queste brillante opere d'arte dove tra l'altro inneggia su un muro la scritta di Borgata Costiera. Io dico che Borgata è una grande realtà e noi la dobbiamo comunque, come posso dire, promuovere perché esiste una città contadina molto importante. E non solo, esistono quegli scorci che spesso magari in passato non si conoscevano. Gli stessi mazzaresi dicono ma che meravigliosa Borgata Costiera. Io diciamo che in questi anni ci ho posato il cuore in questo territorio ma io sono lavorato nella mia città. Io dico sempre che Borgata Costiera fa parte di Mazzara del Vallo. C'è gente che dice che perché fare la festa di pane della pasta a Borgata Costiera. Ho sempre detto perché qua fanno il pane di Evozionale, il San Giuseppe, il pane artistico. Ma soprattutto perché Borgata Costiera è Mazzara del Vallo. Sicuramente lavoreremo, come abbiamo fatto gli anni passati, anche per il centro. Noi abbiamo un'altra manifestazione che è nostra, che è semplicemente meraviglioso. Che sicuramente nei prossimi anni la porteremo in Piazza Mocarte. Perché lì è nata e lì si deve realizzarlo. Scorso anno siamo andati sul lungomare, viste comunque le questioni in merito al Covid. Ora dico semplicemente che noi dobbiamo, con una prova di maturità, incamerare il bel risultato che abbiamo ottenuto. E da questo risultato farne tesoro. Farne tesoro soprattutto perché veramente ho visto gente gioire. Un'esplosione di colori, un'esplosione di coriandoli, un fuoco d'artificio che ha fatto parlare, ha fatto gioire tutti i pressi. Oggi abbiamo sfoggiato dei colori sia con i coriandoli ma anche con i fuochi d'artificio. Abbiamo anche sudato perché giustamente la Questura ha voluto tutta a norma. Noi ringraziamo la Questura per aver usato con noi il buon senso. Siamo riusciti veramente a regalare questo spettacolo a tutti i presenti. Dobbiamo ringraziare tutte le forze dell'ordine che in questi giorni ci hanno comunque sostenuto e ci hanno reso possibile per realizzare questo evento. Dobbiamo ringraziare tutto il mondo del volontariato che ci hanno permesso di realizzare. Perché io dico vero è che si fanno gli spettacoli ma dietro a questi spettacoli c'è molta gente che ci lavora. Ci lavora con impegno, con sacrificio. Altrimenti non è che lo spettacolo dura tre giorni, lo spettacolo dura sei mesi. Poi magari ci godiamo la festa gli ultimi tre o quattro giorni. Ma Borgata Costiera è che è movimentata a tre o quattro mesi. Io che sono lavoro da sei mesi, dal Cibus di Parma. Noi qui abbiamo avuto aziende come la Zicaffè, come la Fratelli Contorno, come la Chiusa Formaggi. Tutte aziende che arrivano fuori della provincia e dalla Sicilia. Grazie al grande lavoro, soprattutto al grande impegno che ci abbiamo messo. Naturalmente non finirà qui. Questo per noi sarà un grande obiettivo da cui ripartire. Lo faremo sicuramente con vigore, con tenacia ma soprattutto con forza. Esatto Francesco, quindi hai fatto una perfetta disamina non soltanto di queste tre giornate, anzi serate, ma di tutto il lavoro che avete fatto nei mesi passati per arrivare oggi a questo punto. Infatti hai ringraziato tutti quelli che si sono impegnati per la buona riuscita, per la festa del pane e della pasta. E noi ci auguriamo sempre che ci siano nuove edizioni, sempre con la stessa affluenza, anzi con una maggiore affluenza rispetto a questa. E ci vediamo alle prossime edizioni della festa del pane e della pasta. Diciamo che innanzitutto il fatto che la gente abbia gratificato e tutti hanno detto che è stato l'evento dell'anno, questo ci ne orgoglisce, ci responsabilizza. Ma tutto ciò, se siamo arrivati ad avere tutta questa utenza, è anche grazie a voi che avete fatto una bellissima promozione di questo evento e che sicuramente la nostra collaborazione continuerà anche in seguito, perché l'obiettivo è quello vero, che si lavora con i social, come ho sempre detto è con i social, io sono molto social, che sia chiaro. Con i social si sta sempre vicino alla gente, perché comunque ti ascolta, ti legge, vede quello che fai. E attraverso i social, attraverso la stampa, alla professionalità di voi, noi sicuramente in chiave futura porteremo avanti la festa del pane e della pasta oltre ogni aspettativa, perché io non mi pongo limiti. Noi vi aspettiamo allora alla prossima, alle prossime edizioni della festa del pane e della pasta e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie, un ultimo ringraziamento va all'amministrazione comunale per le autorizzazioni che ci ha dato e il patrocinio.